Musica Benvenuti amici di Filmina TV al nostro consueto appuntamento che è il salotto. Oggi parleremo di un tema naturale perché parleremo di sapone artigianale in compagnia del dottor Orazio Diego Arcidiacono. Ciao Diego! Ciao! Che ci guiderà in questo percorso di formazione del sapone artigianale. Un tema sicuramente interessante, non molto affrontato più purtroppo, perché è molto interessante la produzione del sapone soprattutto nella nostra zona. Molte persone ancora producono il sapone in casa ma faremo attenzione a come sarà il processo di produzione del sapone di Diego, quali sono le essenze che utilizzerà. Quindi iniziamo subito parlando del tuo percorso perché tu sei torinese, però figlio di genitori calabresi. Ci parli un poco della tua formazione e di come sei arrivato ad aprire questa piccola realtà in Calabria. Salve a tutti, come ha detto mi chiamo Diego, sono nato e cresciuto a Torino e lì ho anche fatto il mio percorso di studi dove mi sono laureato in scienze naturali e ho fatto un percorso soprattutto di tipo botanico e sono diventato un esperto di piante aromatiche e officinali. A un certo punto per una serie di motivi ho deciso di fare una sperimentazione di lavoro, di vita qui in Calabria. I miei genitori erano originari di qua quindi avevo questo appezzamento di terra, cioè di mio padre ancora questa terra con questa casa, con la possibilità di realizzare qualche cosa. E quindi ho iniziato a cercare di creare qui una piccola coltivazione o produzione di piante aromatiche e officinali. Combinazione, come forse ho già accennato lei, in questa casa era presente in cantina notevole quantità di sapone, d'olio d'oliva naturale che avevano creato le mie nonne. Un po' abbandonato lì, che nessuno utilizzava e quindi ho iniziato a mischiare praticamente le erbe che io producevo, così come il rosmarino, il mirto, la salvia, la lavanda, risciogliendo il sapone che avevo qui lasciato diciamo in eredità dalle mie nonne. Anche lì in combinazione le persone hanno sentito, ho raccontato delle cose a delle persone che hanno detto ma sì guarda me lo fai provare, lo comprerei. E praticamente pian piano nell'arco degli anni ho sempre più abbandonato la produzione delle piante aromatiche per incrementare invece la produzione del sapone. Sapone che è completamente d'olio d'oliva perché qui in questa zona praticamente abbiamo l'opportunità e la possibilità di avere grandi quantità di olio d'oliva. Per fare questo sapone all'inizio diciamo a parte i miei studi ero ben ferrato in chimica ma purtroppo questo tipo di sapone naturale è caduto in disuso soprattutto dopo la prima guerra mondiale o anzi la seconda guerra mondiale in cui si è scoperto l'utilizzo del petrolio, diciamo di scarti del petrolio per creare quelli che sono i detergenti e quelli che normalmente si trovano nei supermercati che diciamo hanno degli effetti collaterali magari non positivi però effettivamente sono degli ottimi detergenti. Diciamo che ho sempre avuto questa vocazione per il naturale quindi credevo all'inizio, cioè ci ho sempre creduto al fatto che anche il sapone naturale ha la sua importanza e pian piano sono riuscito a creare questa piccola realtà produttiva. Dal sapone base come dicevo ho creato poi tutta una serie di saponi con le varie essenze soprattutto cercando di favorire quelle che sono le essenze locali. E appunto ti volevo chiedere quali sono le essenze, qual è il processo di distillizzazione e come vengono usate una volta distillate? Allora partiamo dall'ultima domanda, come vengono usate? Il sapone deve essere creato e tecnicamente deve essere fatto bene con un certo pH, con una certa liquidità e all'ultimo, come ultima cosa, vengono aggiunti gli ultimi ingredienti. Questo perché specialmente se si tratta di essenze o di altre cose, il sapone sia per la presenza, cioè sia per il calore perché il sapone alla fine è molto caldo, si tratta intorno agli 80 gradi e sia per ancora tracce di soda in soluzione tenderebbero un pochettino a demolire, a distruggere se uno le cuoce dentro praticamente. Mentre invece l'ultima cosa, prima della colatura, bisogna aggiungere questi ingredienti. Ed è arte del saponiere fare sì che si mantengano i profumi e le caratteristiche di questi ingredienti e si mantengono in qualche modo apportino beneficio a quando poi ci si lava nella pelle. Quindi non solo il sapone naturale, diciamo, è meglio secondo me per la pelle, ma anche poi queste essenze o questi ingredienti. Io ti volevo chiedere, qual è l'essenza che preferisci e quella più richiesta? Allora, che posso dirti quella più richiesta dipende dai periodi. Sicuramente in questa zona va il bergamotto, perché c'è lavoro molto col bergamotto. Bergamotto che compro direttamente da un produttore verso la zona di Ferruzzano, che viene fatto da questo frutto che cresce praticamente solo nella nostra zona, anche se non è l'ingrediente più adatto per la saponificazione. Che preferisco? Io non te lo so dire, perché nonostante io abbia anche dei bambini, per me i miei prodotti sono comunque tutti buoni, mi piacciono tutti e non ce n'è nessuno che secondo me è migliore rispetto all'altro. Ognuno ha una sua caratteristica, ha una sua qualità. Non ti ho detto invece prima come si ottengono queste essenze. In giro purtroppo esistono, purtroppo o per fortuna, insomma, esistono moltissime arome e moltissime essenze che sono comunque di origine chimica. Sono sicuramente più economiche, sono sicuramente più forti e alle volte hanno un po' degli effetti collaterali. Difatti esistono, io lavoro molto ad esempio con persone che hanno problemi di allergie, che tutte queste sostanze alle volte danno. Invece le essenze che sono io sono tutte comunque di origine naturale, cioè praticamente sono proprio le piante che vengono prese, lavorate e distillate. Esistono ancora poche realtà, però soprattutto in Italia, insomma, in certe zone, ancora c'è chi coltiva e distilla la lavanda, come c'è chi ancora coltiva e distilla la menta, o il bergamotto nella nostra zona, o gli agrumi in generale, insomma, che sono quelli che io cerco di, devono avere o caratteristiche di Mediterraneo, c'è che crescono nella nostra zona, oppure lavorò soprattutto gli agrumi, quindi principalmente arancio, limone e bergamotto. I tempi di lavorazione di queste essenze? Dunque, i tempi di lavorazione sono lunghi, sono lunghi sia per la coltivazione che poi la lavorazione e di fatti hanno prezzi anche abbastanza cari, risparagonati a quelle che sono le sostanze chimiche che aromatizzano, di cui, dico, purtroppo siamo invasi perché dall'alimentazione, cioè dai biscotti agli sciampi, ai detersivi, insomma, spesso sono veramente strapieni di queste sostanze e che alterano un pochettino anche quello che è il nostro senso del gusto o dell'olfatto, perché ci invadono, spesso abbiamo una colomba da mangiare che è strapiena di aromi, che sentiamo l'odore ancora prima di avvicinarci e che in realtà, ecco, c'è molto aroma e poca sostanza, spesso nelle cose che commercialmente, per una serie di motivi, viene messa, insomma, sul mercato. Sì, questo discorso del biologico è molto affrontato negli ultimi anni, perché si va sempre alla ricerca del naturale, la gente si avvicina alle cose naturali, cerca sempre di più il biologico, perché, come dicevi, le sostanze chimiche che contengono sia purtroppo gli alimenti che anche i saponi sono aggressivi sul corpo, ma anche sulla salute delle persone, quindi quello che produce Diego è assolutamente naturale. Parliamo del processo di saponificazione? Sì, allora, il processo di saponificazione naturale è che qui è ancora conosciuto, perché, come dicevo, insomma, in quasi tutte le famiglie, nelle campagne, un tempo si faceva il sapone. Tutti se lo ricordano, oramai sono rimasti in pochi, perché è un lavoro comunque lungo, è un lavoro che presupponeva anche che, insomma, ci fossero delle sostanze a saponificare, perché un tempo, soprattutto, tutti avevano il contenitore o la giarra dell'olio, che poi, quando diventava vecchio, si formava praticamente la fezza sul fondo, e questa poi veniva, non ci si poteva fare quasi più niente, così come tante altre sostanze, come si usava anche il grasso di maiale, oppure anche l'olio fritto, insomma, quasi tutti i grassi si saponificavano, si accumulavano e poi si mettevano in questi calderoni, con la soda, si lavorava e si otteneva questo sapone, che veniva un po' come veniva, ecco, in genere c'erano delle signore anziane che sapevano, insomma, custodivano questa sapienza e venivano chiamate delle volte quando il sapone non veniva per correggere, per capire come mai non quagliava, come il termine che si usa qua. Io invece non, insomma, cerco di migliorare la qualità di questo sapone, innanzitutto non uso grassi animali per mia così scelta, non uso grassi di scarto e uso solamente olio di oliva e anche di una certa qualità, non solo, c'è una mia scelta di tipo etico, ma è anche e soprattutto una scelta di tipo commerciale, perché alla fine io faccio un prodotto che devo poi comunque mettere sul mercato e deve essere anche accattivante per qualche, per motivi commerciali, come dicevo, quindi l'olio d'oliva che solo noi in questa zona ne disponiamo così in abbondanza e quindi qui mi posso permettere di lavorare e farne motivo di prestigio. Quindi gli ingredienti che sono usati per il tuo sapone sono l'acqua, l'olio d'oliva e l'idrossido di sodio. L'idrossido di sodio, principalmente questi tre, per fare il sapone base. Io uso una tecnica che in qualche modo ho sviluppato, quindi che è mia, cioè uso una doppia saponificazione, cioè creo prima il sapone a freddo, quindi creo una base di sapone che se avremo tempo dopo guarderemo e vi farò vedere. Questo sapone poi viene stagionato e dopo risciolto con l'acqua e cotto. Questo perché il sapone d'olio d'oliva richiede la cottura. Alcuni oli, tipo l'olio di cocco, altri grassi, possono dare un buon prodotto anche a freddo. L'olio d'oliva dà un buon prodotto ma deve essere saponificato per bene. Quindi questo doppio passaggio permette di completare l'operazione. Ma non solo, tecnicamente a me dà anche una standardizzazione del risultato. Perché come si faceva una volta solo col calderone, come ho detto, essendo anche un po' complicata la sua modificazione, alla fine il risultato veniva un po' come veniva. Spesso era ogni volta diverso, non riuscivi mai ad ottenere un prodotto sempre uguale. Con questi due passaggi io in qualche modo standardizzo il risultato finale perché comunque il mio prodotto deve essere venduto, devo garantire un certo risultato, una certa qualità del prodotto. Quindi è meglio perdere un pochettino di tempo ma ottenere un certo risultato da mettere poi in vendita. Quindi per esempio la differenza nell'utilizzo di un olio di cocco, come prima accennavi, con un olio d'oliva dà risultati sia nel prodotto finito che nel processo di lavorazione. Ci sono differenze in base al tipo di olio che potrebbe essere utilizzato? Sì, le differenze esistono. È un po' come chiedere all'oste se il vino è buono. Chiaramente io uso l'olio d'oliva e insomma sui testi è risaputo che l'olio d'oliva è uno dei grassi migliori da saponificare. Un tempo ho letto sull'oliva perché chiaramente per fare questo lavoro mi sono molto documentato che esistevano addirittura dei sistemi di contraffazione per far sembrare il sapone, sapone d'olio d'oliva. Perché il sapone d'oliva poi quando è saponificato viene con determinate caratteristiche, un tempo lo si rendeva in modo che diventava marmorizzato, si chiamava così. E allora su un libro ho letto molto antico, ho letto addirittura le tecniche per far sembrare il sapone che magari derivava da altri grassi di scarsa qualità, d'olio d'oliva. Quindi se chiedi a me ti dico sì, l'olio d'oliva è il più buono e sicuramente è il migliore. Non a caso il mio è un sapone d'olio d'oliva. In giro quelli che riviscono sui mercati, che arrivano da fuori, si chiamano saponi all'olio d'oliva. Cioè hanno una base che magari deriva dal petrolio o che è olio di cocco o grassa animale a cui poi si aggiunge una certa percentuale tra l'8, il 5 e il 20% di olio d'oliva. Invece il processo di asciugatura del sapone? Sì. La stagionatura alla fine? La stagionatura, sì sì, si può chiamare anche quello lì. La stagionatura è un processo importante che richiede indicativamente, dal momento in cui io faccio il sapone lo colo, poi indicativamente ci vogliono 40 giorni perché il sapone si possa lavorare. E delle volte di più, soprattutto per il confezionamento. Dipende anche dal tempo? Sì, non è così falso quello che una volta addirittura si diceva che con lo scirocco non si doveva fare il sapone. L'umidità in qualche modo incide, soprattutto nella stagionatura. Questa è una questione che mi piacerebbe affrontare perché alla fine diventa commercialmente difficile da affrontare al mercato perché spesso mi chiedono i prodotti e mi chiedono i prodotti anche molto particolari. Con i tempi, con il sistema, con la società moderna ti chiedono una cosa, è logico che debba essere pronto domani. In realtà il sapone naturale ha dei tempi di lavorazione, di stagionatura che delle volte raggiungono anche i due mesi. Quindi questo... Non è prevedibile, quindi tu non puoi dare dei tempi certi di consegna. No, no, no. Comunque sono dei tempi troppo lunghi perché spesso a chi rispondi sì te lo faccio ma ci vogliono due mesi e ti dicono no, bello mio, questo serve entro una settimana e devo averlo pronto. Questo si ovvia cercando di creare grandi magazzini con grande ottimismo nel senso che il prodotto deve essere lì stivato, stagionato e pronto all'uso e alla vendita. Per me che alla fine produco, creo tanti tipi di prodotti, ne ho più o meno una cinquantina di tipologie tra gusti e pezzature. Quindi tenere tutto questo magazzino non è facile ma soprattutto per i primi anni, adesso che sto diventando sempre più bravo, che conosco sempre di più il mercato, sto imparando a prevederlo e spero un giorno di arrivare addirittura come bisognerebbe fare commercialmente ad aggredirlo al mercato. Cioè devi essere tu in qualche modo a importi, sì, a creare un prodotto, quindi lanciarlo, crederci, farti pubblicità, venderlo, cioè proporlo molto, insomma. Ti volevo fare una domanda. Ti è capitato di parlare con qualche vecchietta che conosceva il sistema antico di produzione del sapone e quindi confrontarti, casomai prendere dei piccoli spunti, qualche segreto, casomai anche nella nostra zona si sperimentava anche col sapone e si aggiungeva anche la genere. La genere era usata molto per pulire, però il sapone di una volta che producevano qui veniva usato sia per il bucato sia per la pelle. Invece tu produci sia sapone per il bucato sia sapone per il corpo. Sì, principalmente, vabbè, partendo dall'inizio della domanda, soprattutto all'inizio andavo proprio a cercare, mi facevo raccontare da parenti e amici chi produceva il sapone, se c'era qualche persona che ancora lo faceva o che lo faceva bene e quindi sono andato diverse volte a confrontarmi. Sono stato io ad andare incontro alle vecchiette, diciamo così, per cercare di carpire più informazioni possibili. Ho capito che il sapone è comunque una cosa un po' buffa, nel senso che rispetto ad altre cose era sempre avvolto un po' da un alone, quasi, usare un termine un po' forte, quasi un po' stregonesco, come se c'erano delle cose. Ad esempio mi raccontavano sempre che c'era la credenza che si bisognava sempre girarlo nella stessa direzione, perché sennò impazziva. In realtà è vero... Un po' come la maionese. Non so se nella maionese è vero o no, però nel sapone so che non è vero, nel senso che si può girare in un senso o nell'altro e impazzisce se ci sono dei problemi di, praticamente, di chimica, di semi-chiometria, cioè nel senso che non sono stati azzeccati i rapporti tra acqua, olio e soda, quindi la direzione in cui si gira, si aggiungevano altri ingredienti. Si aggiungevano altri ingredienti, uno era la cenere, la cenere però è già di per sé, praticamente, la base della liscivia. La liscivia sarebbe l'acqua più la soda, che ora si ottiene con la soda che si compra in scaglie, ma che si potrebbe ottenere, di fatti anticamente lo facevano così, si potrebbe ottenere dalla cenere, mettendo l'acqua, la cenere nell'acqua, lasciandola lì un po' di tempo, un po' di giorni, quest'acqua pian piano assorbe i sali, soprattutto sali potassici che sono nella cenere di legna, che si carica di questi sali e poi quest'acqua concentrata, messa sul fuoco e ridotta, magari da 10 litri si portano a 2 litri con l'evaporazione, si ottiene praticamente una liscivia, cioè un'acqua che se poi tu la devi mettere dentro, il dito dentro, te lo brucia. È sicuramente una liscivia, insomma, carica poi di molte altre cose. Però questo è praticamente il sistema con cui anticamente si mischiassi e scoperto come si faceva il sapone, perché sicuramente non esistevano le industrie che producevano la soda in scaglie e quindi si faceva così. Un particolare posso aggiungere, sempre documentandomi tra anziani e poi varie risorse bibliografiche o anche internet e così, che facendo con la cenere nostace della legna si ottiene il sapone molle, cioè un sapone che poi alla fine ha l'effetto di sapone che però non diventa mai, non quaglia mai, non diventa mai la saponetta classica dura. Mentre invece per farlo con il vero sapone duro era nato, da quanto ne so io, dalle ricerche che ho fatto, comunque in Medio Oriente, nell'attuale zona della Siria, dove attualmente si produce il sapone d'Aleppo molto famoso, che si creava soprattutto unendo l'olio d'oliva, che anche in quella zona è presente, con le cenere delle alghe marine, delle piante marine. Le cenere delle piante marine danno una lescivia, danno un aceno, poi con l'acqua, danno una lescivia soprattutto sodica, che quindi crea un sapone che poi solidifica. Quindi probabilmente, adesso sono saltato da un discorso all'altro, però l'origine del sapone è da attribuirsi in quella zona lì. Poi, come tante altre cose, gli europei sono stati bravissimi ad andare lì, copiarlo e renderlo un prodotto commerciale. In Italia e in Europa sono state poi, quando c'è stato il periodo delle città marinare, Genova, Pisa e Venezia, che hanno scoperto questa cosa, avevano grandissimi magazzini di olio d'oliva, che poi rancidivano e hanno iniziato a produrre questo sapone, Savona, Marsiglia, di conseguenza, che poi hanno rivenduto, rivendevano soprattutto ai paesi del nord, che scambiavano soprattutto con i paesi scandinavi, con l'Inghilterra e altre realtà commerciali di quel periodo lì. Quindi, in quel periodo lì, con le città marinare ha iniziato proprio la produzione e il commercio, usare un termine adesso il business. Gli scambi commerciali, sì. Il business del sapone è iniziato con le città marinare. Ritornando a quello che abbiamo detto prima, mi viene in mente l'immagine, per esempio locale, di queste donne antiche che partivano con delle ceste sulla testa piene di vestiti e si recavano presso fiumi e torrenti per lavare i vestiti e non si preoccupavano dell'inquinamento, perché comunque il sapone allora comunque era un sapone naturale. Invece, negli ultimi anni, in modo particolare dagli anni 60 del secolo scorso, si è dedicata, l'industria ha dedicato più attenzione al detersivo che al sapone, tramite procedimenti, come dicevi tu prima, che utilizzavano sostanze chimiche, che utilizzavano il petrolio. Quindi quanto è importante oggi usare un prodotto naturale e preferirlo a un detersivo classico che possiamo comprare in qualsiasi negozio? Guarda, se lo chiedi a me, che sono un naturalista, che vivo nella natura, che ti dico, è importantissimo. C'è un discorso dietro economico e commerciale, nel senso che questi prodotti si sa che inquinano, purtroppo nella nostra zona, questo è un tema che un giorno mi piacerebbe anche affrontare, c'è un grosso problema dello smaltimento delle acque reflue, che quindi vanno ad inquinare quando poi andiamo a farci il bagno, purtroppo scopriamo che l'acqua fa la schiuma. Questo non solo perché la gente utilizza moltissimo questi detersivi, ma anche perché poi il sistema di smaltimento delle acque reflue purtroppo è una situazione abbandonata un po' a se stessa. Quindi io ti dico certo che sarebbe importante, il sapone fatto così è totalmente biodegradabile. Anche la soda stessa è una sostanza che di per sé, se la tocchi ti fa male alla mano, però ti può bruciare, ma a parte il fatto che è corrosiva, è comunque una sostanza che immediatamente si deteriora, si degrada in altre sostanze naturali, si rimette nel ciclo naturale. Queste sostanze invece che compongono dai detersivi agli sciampi sono una componente, cioè una serie di componenti, non c'è solo il detersivo, c'è poi, se prendiamo l'esempio degli sciampi, c'è poi il prodotto, la molecola che va a far risultare il capello brillante, quell'altro invece che fa in modo che non depositi il calcio, quell'altro che aggiunge il profumo. Se andiamo a vedere gli ingredienti, poi su uno sciampo non so se ci sono anche 20 componenti, nei detersivi è uguale, poi alla fine ci sono molte sostanze ci sono sostanze che verniciano i nostri vestiti per dare l'effetto ottico del risultato. Quindi il colorante che viene messo anche nei… Sono pigmenti che in qualche modo mettono, che danno l'effetto ottico del pulito che addirittura arrivano a coprire la macchia. Quindi il risultato non si dà così con la bacchetta, ma la soluzione non c'è così perché oramai siamo in una situazione in cui ripeto il commercio, l'industria, l'economia anche perché un prodotto fatto così è manuale con certi clienti, ha un costo il prodotto industriale a costi delle volte quasi zero, c'è solo il costo della pubblicità su alcune cose, ci sono alcune marche grandi che non stiamo a nominare che però costano pochi centesimi il loro prodotto, però il resto lo investono tutto in pubblicità a farci credere delle cose. Questo è il mercato come va adesso, io invece mi occupo di un'altra piccola fetta di mercato che sono le persone che hanno una certa sensibilità, che apprezzano certe cose e richiedono un certo tipo di prodotto, riallacciandoci al discorso che facevamo prima sul biologico in cui più o meno io faccio parte, perché comunque il mio prodotto è soprattutto comprato e richiesto da chi ha questo tipo di attenzione oppure da chi ha proprio problemi, come ti dicevo prima, di salute e non può proprio più utilizzare i prodotti che ci sono normalmente sugli scaffali sui mercati perché hanno poi problemi magari di irritazioni varie che per mia fortuna o forse per mia bravura i miei prodotti non danno. Sicuramente entrambi. Io volevo ritornare un attimo al processo di saponificazione e parlare della glicerina che generalmente nei detersivi viene tolta e generalmente viene utilizzata nei cosmetici più che altro, nei saponi artigianali invece questa non viene tolta. No, la glicerina si forma naturalmente, nel processo di saponificazione si mette grasso più una forte base, più acqua, uguale sapone più glicerina. Se si guarda sui testi di chimica il risultato è questo. Industrialmente, soprattutto anni fa, scoprirono che praticamente la glicerina, il sapone funzionava benissimo anche, funziona benissimo anche senza la glicerina e quindi la glicerina veniva sottratta o viene sottratta per creare appunto dei, per essere utilizzata per altri creme, insomma altri cosmetici. Nel mio prodotto rimane, tal quale in quasi tutti i prodotti tranne quello che io denomino Marsiglia che è quello che io creo per i panni che tramite un sistema di saponificazione diverso, che se vuoi dopo ne parliamo, separo e quindi ottengo quest'altro sapone, mentre invece nel sapone per la pelle normale, quelli che abbiamo qui dietro, rimane dentro e quindi in qualche modo arricchisce e migliora la qualità del sapone. Ci accenni di questa storia del sapone di Marsiglia? Ah, guarda, sapone di Marsiglia in realtà è un termine... Forse è quello più conosciuto. Sì, è quello più conosciuto, ma in realtà è un termine che viene utilizzato un po' sproposito perché anche io a mio modo alla fine lo utilizzo così. Nel senso che la denominazione di sapone di Marsiglia vuol dire sapone di olio d'oliva. In realtà poi andiamo a vedere nei supermercati, questo termine viene emesso su tantissimi prodotti che poi di oliva non hanno nulla. Quindi il mio sarebbe tutto sapone di Marsiglia. Io a suo tempo invece ho denominato quel tipo di sapone che produco in questo modo, è una tecnica che i siciliani conoscevano perché in Sicilia si faceva anche in questo modo, in Calabria no. È una tecnica che praticamente una volta fatto il sapone a caldo ad impasto, si aggiunge il sale e questo sale fa impazzire il sapone e lo fa separare. viene a galla la parte di sapone vero e proprio pulito e bianco e sotto vanno tutta la soda, il sale e tutte le impurità che ci sono più la glicerina. Quindi si forma un'acqua sotto e sopra invece il sapone. Quindi poi questo sapone si tolge con la schiumarola e rimane quest'acqua qui che praticamente è carica di varie sostanze. Questo lo faccio per ottenere un sapone diciamo più indicato per i panni, che è più puro, non è più forte perché è praticamente lo stesso tipo di pH, però in qualche modo è un sapone che non ha soprattutto cioè quella di separare il sapone, quella era una tecnica per sbiancare il sapone perché io mi ricordo il sapone delle mie nonne era spesso grigio, nero perché si faceva veramente con gli avanzi di qualsiasi cosa. Con questa tecnica qui ripeto anche la colorazione scura va giù e quindi il sapone che ne viene a galla è un sapone che si è privo di glicerina è un po' meno come quantità rispetto alle quantità utilizzate però è bianco e sicuramente un tempo era più apprezzato commercialmente e ripeto ho saputo dai miei studi che in Sicilia questa tecnica conoscevano mentre invece io ho chiesto a tutte le persone, insomma gli anziani con loro comunque che in qualche modo hanno fatto il sapone ma qui non esisteva. Io ti volevo fare una domanda. Durante il processo di lavorazione l'olio di oliva e l'acqua non entrano in contatto? Rimangono separati tra di loro? La saponificazione è nient'altro che l'unione, cioè quando poi finisce la saponificazione non esiste più nell'olio e nella soda ma si sono uniti. L'acqua in realtà è il veicolo che serve a far avvenire questa unione. Tant'è vero che poi al peso finale tu troverai del sapone finito e stagionato, tu troverai l'esatta corrispondenza dell'olio e della soda che tu hai messo. L'acqua in teoria evapora completamente, serve solamente a fare. non si mischiano perché devono essere, non si mischiano, non creano problemi perché devono essere mischiate in maniera adeguata. se lo fai a freddo devono essere mischiate con l'accortezza di mischiare alla stessa temperatura e poi non metti l'acqua da sola ma metti la liscivia come dicevo prima. Tu crei a parte acqua più soda che liscivia e a parte olio e poi mischi questi, non mischi tre ingredienti, rimane mischi praticamente due all'ultimo momento. Facendo attenzione o che ci sia una decisa diluizione della liscivia, non deve essere molto concentrata, se no il sapone impazzisce, oppure facendo attenzione soprattutto che la temperatura sia molto simile. Se sono molto simili alla temperatura dell'acqua e della liscivia e dell'olio si crea immediatamente una crema che già è la prima parte di saponificazione che poi dopo con la cottura, con il movimento si porta a termine della reazione che alle volte richiede anche tre ore o alle volte anche due giorni richiede il sapone d'olio d'oliva per essere fatto bene. In realtà cos'è che pulisce? Eh, bella domanda. In realtà la cosa che pulisce è l'acqua. La cosa che pulisce è l'acqua perché… La cosa più impensabile. La cosa più impensabile, sì. Il sapone dà un aiuto all'acqua, a pulire. L'acqua ha una sua caratteristica che la rende un po', soprattutto sui panni, questo si vede che non è miscibile ai grassi e quindi il sapone ha questa caratteristica di essere chimicamente sia predisposto a legarsi ai grassi che anche all'acqua. Quindi in qualche modo ha delle molecole che come incontrano dei grassi, captano questi grassi, li sciolgono, li portano via. Però c'è un'altra teoria che è più fisica che è quella che il sapone abbassa la tensione superficiale dell'acqua. Detto in parole povere, se noi prendiamo una superficie liscia e mettiamo una goccia d'acqua pura, questa formerà una goccia. Se quest'acqua invece ha dentro del sapone, questa si stenderà come un piano. Allora, questa tensione superficiale che tende a far creare la goccia dell'acqua oppure che è quella che fa il bordo del bicchiere quando noi vediamo che è una caratteristica diciamo elettrostatica dell'acqua, viene abbassata, si parla proprio di abbassamento della tensione superficiale quindi permette all'acqua, secondo alcune altre teorie, quelle più fisiche, all'acqua di entrare in tutti, se si tratta di tessuti, in tutti i meandri, le piccolezze dei tessuti e far così portare via il grasso o lo sporco che può essere presente. E la stessa cosa praticamente fa sulla pelle. Quindi il sapone ha questa doppia, diciamo, modo di interazione. Se lo guardiamo dal punto di vista chimico, sono le molecole che ha dentro che catturano e sciolgono il grasso. Dal punto di vista fisico invece danno la possibilità di insinuarsi e staccare via le sostanze, diciamo, esterne, le altre sostanze che non sono vestito, pelle e così via. C'è una differenza, seppur minima, tra lavorazione a freddo e lavorazione a caldo? No, no, non è pur minima. C'è una grossa differenza. La saponificazione a freddo è una saponificazione che è veloce, immediata, nella reazione di per sé e che poi avviene con la stagionatura. Tant'è vero che un sapone fatto a freddo non si può utilizzare per 30-40 giorni, perché immediatamente viene una crema che poi si cola nelle forme e poi la reazione continua durante la stagionatura. Cioè, praticamente, le molecole di soda vanno a catturare quelli degli acidi grassi dell'olio e formano la saponificazione. E' un tipo di saponificazione che va bene, forse l'ho già accennato prima, per grassi semplici come quello dell'olio di cocco. Per l'olio d'oliva dà immediatamente, con la prima stagionatura, nel primo mese, un sapone di buona qualità, ma con la stagionatura escono fuori dei problemi, o di raccidimento, o di... Quindi, perché non è una saponificazione non completa. Con la saponificazione a caldo, invece, si spinge, si completa sicuramente la saponificazione, con questi due o tre ore, con questo apporto di calore, che è un'energia, e con il mescolamento, che è un altro tipo di energia, insomma, spinge di più le molecole a reagire e a completare questa reazione. La saponificazione, ne esistono poi, adesso tecnicamente non siamo ad affrontare diverse fasi, e comunque la saponificazione a caldo permette la completa saponificazione. Io aggiungo che, per quanto riguarda il mio sapone, quello a freddo, praticamente, come ho detto, con la stagionatura spesso tira fuori dei problemi, mentre invece quello a caldo è come quello che faccio io a caldo, è come il formaggio. Cioè, che più stagiona, più non è che invecchia o diventa scadente, più stagiona e meglio diventa, quindi in realtà aumenta di pregio, ecco, con la stagionatura, anche dopo anni. Però abbiamo parlato finora soltanto di sapone solido. Vogliamo dedicare un po' di attenzione anche a quello liquido? Sì, dedichiamo. Io creo anche del sapone liquido, qui dietro ne abbiamo qualche esempio. Il sapone liquido, devo dire la verità, non è il mio preferito. Se posso esprimere queste cose, permettetemi questo lato umano. In realtà si vende abbastanza, si crea perché è un'esigenza dei nostri giorni. Igenicamente mi rendo conto che è anche migliore, perché questo sapone può essere tenuto, questa confezione può essere tenuta e diverse persone lo possono utilizzare, mentre invece la saponetta è da immaginare più in un ambito familiare, non un ambiente, ad esempio, pubblico, dove chiunque la prende in mano, la lascia lì e così via. È personale, la saponetta è personale. È personale, questa può non essere personale, quindi per questioni sempre di praticità, di vita moderna, diciamo che trova un riscontro commerciale molto importante, anche se io non sono tanto favore per la questione della mia formazione naturalista contro l'inquinamento e così via, sul fatto che comunque si rischia di creare un rifiuto, cioè quando poi il contenitore viene svuotato, poi rimane. Cerco di ovviare a questa cosa sensibilizzando i miei acquirenti, cercando di far comprare una prima volta il prodotto nella confezione, poi vendendo altre volte le ricariche e ovviando in questo modo. Di fatto ogni tanto ci sono dei clienti che tornano con le borse da me qui, con le varie tanichette o contenitori. Non raggiungiamo il 100% di quello che vendiamo, però diciamo che è un nostro piccolo lavoro e otteniamo qualche risultato, lo otteniamo. Allora, restando sempre su questo discorso. Scusami, del sapone liquido non ho detto una cosa importante, c'è una grossa differenza, c'è sempre olio d'oliva, ma il sapone liquido si fa con la potassa, non con la soda. Sono due molecole molto simili, però una ha la caratteristica di dare i saponi molli, che quindi poi si possono portare a questa liquidità, e l'altra invece è la potassa, mentre invece la soda dà saponi di tipo solido, e che quindi, a voglia di aggiungere acqua, tenderà sempre a creare poi una parte di solido sopra. Ti stavo dicendo, essendo su questo discorso del mercato di acquisto, la fascia di età dei tuoi clienti generalmente cosa preferiscono? Una bella domanda, la fascia di età dei miei clienti? Direi i miei coetanei, più o meno, quindi siamo tra, diciamo senza dire, intorno ai 40 anni, ecco. Forse perché è una fascia di età che in qualche modo è più sensibile al tema del biologico, alle problematiche dell'ambiente e così via. Però, insomma, vendo un po' in tutte le fasce di età. Principalmente, forse ritornando invece al discorso del mercato, volevo aggiungere questa parte, che internet mi ha dato la possibilità, volevo insomma aprire un pochettino una parentesi su internet, sul fatto che comunque ho potuto creare questa attività grazie anche a internet. Penso che 50 anni fa, qui in questo territorio, un'attività come la mia, che è un'attività così nuova, che in qualche modo ho creato, non avrebbe, cioè dovendomi soprattutto rapportare col contesto, col territorio, non avrei avuto, secondo me, grandi possibilità. Per cui, sia all'inizio e grazie a internet, ho iniziato a creare questo prodotto e mi sono soprattutto rivolto, diciamo, all'inizio all'Italia in generale. Ho cercato anche con l'estero, ho avuto anche qualche esperienza con l'estero, ho venduto addirittura in Cina, i miei saponi sono stati, questo è il motivo d'orgoglio. Però, come dicevo, internet mi ha dato la possibilità comunque di mettere una vetrina sul mondo, e quindi sull'Italia, e di aver potuto vendere direttamente ai clienti o ai rivenditori in altre parti d'Italia. E che invece, se fosse stato diversamente, qui, ripeto, l'alternativa sarebbe stata poca roba, e così sicuramente non ti avrebbe dato l'opportunità di campare e portare avanti un'attività. In questo momento mi trovo paradossalmente invece in una situazione contraria. Cioè, sto, ho un po' trascurato la situazione di internet, che è comunque un lavoro, un mondo dove comunque ci devi sempre mettere energia, impegno, insomma, esserci presente, per una serie di motivi l'ho un po' trascurata, però mi sta rispondendo bene il mercato locale. Cioè, in questo momento sto lavorando soprattutto con situazioni della provincia, diciamo, in questo modo. Cosa che, insomma, con piacevole sorpresa. Vabbè, ma quando c'è una bella attività la voce si diffonde, quindi la gente inizia ad apprezzare il tuo lavoro è quello che fai, perché sicuramente è una cosa positiva per te e per la nostra zona. Allora, noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Ti ringrazio, Diego, per averci guidato in questo mondo del sapone. Grazie. Grazie a voi anche di questa opportunità che mi avete dato. Noi vi rimandiamo alla prossima puntata del Salotto di Fimina TV. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.